Ma sono Danio di Minos, a dirò d'utero e quello in Romagnolo, un'ecapa potente a voi presentiamo, un'ecazione, solo che, voi avevo un patate che si conosce in Romagnolo, ecco qua, avendo subito. Ah, se vei quello che trovi in un cruzeiro, inserite qua di qua o di qua? Scegliamo a far messa qua a pensare, ma non è che lei, direi a chi è il bambino, se la scappa e se lei non si chi può. Lei è un quel che può neanche capire, che la silla tu strada, o è tu viola, forse lei è un po' come in tal forma. Specialmente se per te la villa è nuova, ha avuto quanti metti a brisle la prova? Se ci scelta, solo che il prei, con i chei, ma te andrei. Cos'è che tratta loro più? Questo non lo mai saputo. Che la sua fatica, quel sicuro. Stai pure i miei, dai più. La sarebbe nella estrella, si passessi po' tutta lei. E se fosse un violpino spenervi? In dove c'è la farolotta, lei fa in it. Boh, in che però, devi oltre la perfezione, hai o fai con i si amici, arrivi in ciò. Grazie. 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 Grazie.